Non credevo che prima o poi sarebbe arrivato ma a quanto pare c'è Un Beemut radiante che è un gatto coi baffi e le ali Non so cosa si siano fumati per fare una roba del genere Ma che può cambiare a piacimento il suo elemento Tutti gli elementi che vuole Anche se c'è questo nuovo Beemut È un'altra cosa che mi ha più affascinato E con la giusta calma la posso dire L'ascesa radiante finalmente Black e Yuki Siete pronti alla caccia Finalmente l'ascesa radiante Esatto anche col nuovo Beemut che fa 50.000 attacchi diversi come voleva Alex Esatto È brutto È brutto È brutto cosa? Ah il gatto con i baffi Il gatto con le ali Il gatto con gli stivali Lo trovo molto orientale Lo stavo per dire io lo sai Ok vai fai partire Sei tu il capo Idiota Che cazzo Perché dici a me che non posso partire Che figura di merda Black Tu sei stato troppo tempo a giocare a Elder Ring lo sai Sì infatti mi sono messo l'elmo da guerriero Yuki Tu sei stato troppo al capsi Aspetta fermi Dov'è il simbolo qua Dopo il cristallo Dopo il cristallo, ok, buono Ok, è morto, il ragazzo è già morto Gli abbiamo fatti in una porta sola No, lo abbiamo proprio umiliato dalla sua vita Aspetta, dov'è il simbolo? Ah, eccolo è il simbolo! L'ho trovato, è lì Ma cosa bisogna fare? Scrivo io quadro Scrivo io quadrato, la Q Devi scrivere in Q in chat? No, no. Sì, così me lo ricordo Ah, ah, ok, va bene. È quadrato Quadrato. Ok Perché hai messo il metto in chat? Non siamo ancora morti black No, non intendevo in quel senso F è il simbolo. Ah, ok, ah Ok, va bene. Una Z Z o F? Z Quella, quella è una F No, F per fulmini intendo dire Secondo me è una Z ZTL? Dipende dai punti di vista Una Z all'infinito? Una ZTL! Anche le noccioline, tipo, se tu le disegni e le giri, sembrano un infinito Quindi praticamente i bimuth sono delle noccioline Ma che cazzo stai a dire? Ok, qua, se non ricordo male, sono cose che servono per colpire il bimuth, giusto? Uno, uno su ogni cannone lo bombardiamo a cannonate Ok, ma non abbiamo Non lo manco mirato Ti se ne frega, tu spara Ok, lo colpiamo a caso, dai, tutti insieme, via Eh, ognuno stiene un cannone Ok, ognuno di noi si fa un cannone, ho capito Sì, ma non è che... Allora Che coraggio fratelli Adesso, questo è un triangolo, io segno Che cazzo segno? Sì Triangolo, no, tre Nii, è figlio di Khmer No, il modello... DOR Figlia di? Di Khmer Ah, ok, non era più DOR Figlio di Khmer, della tribù di Star Con il quale ha visto tra le neppie di Khmer Porca di quella puttana, sto cazzo di bimuth Lo faccio diventare don e poi non sai cosa che ci faccio Sai, è la canzone Odita 9000 Mamma mia il danno Ho tutte le cariche Buono Ok, adesso che si fa? Non lo vedo Come? Ale, vieni qua La La Oh, ma guarda tu dove ero No, qui, Black Black Da qua Quì Ok Da qui No, Black, qui Va qua Duevano esserci la Z infinita tipo Ok questa è la F Sì la F Sì la F Qu雷 Quadratto e F Triangolo Triangolo E poi annualmente c'è il triangolo, ok è vero C'è un take Triangolo, è vero Ta da см Lì Gioi Ok, ti metto Ah hai già fatto, è grande Copero che si fa? Di prendi Prendi lamp Ma ma se Ah l'Oclus è qui Qua Ditori a quella carasse Stai Ma questo qui è un olacron sit. What the... Devi saltare però. Salta. Arrivo. Ok. Ma? Ok. Quest'isola si è formata attorno a un blocco gigante di hater radiantre sovraccarico, in modo simile alla miniera di cristalli surupe enigma. Per secoli, la maestra sfregiata e i suoi monaci del pugno deciso sono vissuti qui, erigendo templi in onore del potere dell'isola. Quando un meteosisma sconquassò la loro terra, i monaci furono costretti ad abbandonare la loro casa e il suo potere. Oggi, gli scienziati dell'osservatorio l'hanno riportata alla luce. Cioè, ragazzi... Oh, non mi lasciate da solo! Avevo fatto una bella storia! Con la mia voce, musica, effetto! E voi prostardi pezzi di merda mi lasciate da solo! Brutti, infami! Che il cronovoro... Vi auguro che il cronovoro vi trasformi in donne e vi facci mo... Ah no, aspetta, la Yuki è già... Vi auguro che Yuki diventa maschio! E vabbè, insomma... Vi auguro che vi st***o. Tirate le pinne, le pinne... Ah, porca p***a me. È l'ultima cosa che si rompe sempre. All'attacco quello solito, dalle onde. Provi in trappola. Via, 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 via! Non lo scoccarlo! Mi va. Fermi. Fermi. Ah, coda rotta. Ok, bene. Vieni qua, pinnezza, bella. La coppa rotta? Le flore si lava. Quelle non scottano più, ti fanno... Ti impressionano. I cavalli col croro. Ie-hah! Vai, piccola! Guarda, c'è l'acqua. Ce la faccio, ce la faccio! Ah, è morto, sì, è morto. Chi mi ha bloccato il tuffo? Io. Ma vaffanculo! Ie-hah! Cazziferia contro! Aria. Ok, ok. Devo venire andare di vicino, se no non c'è aria. Uno. Due. Fa l'attacco. Adesso. Ora. Bravo. Bravo. 38.000! Oh yes! Da Cuduria! Morto! Perfetto. Perfetto. Non gli abbiamo rotto niente, ci sono veri. No, abbiamo rotto qualcosa. Oh, finalmente il Beavut, quello nuovo. Eccolo qua, in tutta la sciabinutezza. Ah, te lo canta un po', ragazzi. Dai. E ce ne è più terra. E va, si fa in bagno. Ma cosa vuoi dire? Questo Beavut non ho ancora capito come cazzo stunnarlo. Si può stunnare. Si può fare. Si, lo so, però il tempo, l'ora di tempo, non riesco ancora a farlo. Quello che fa il Kushai alborio. Ecco il Beyblade. E il Beyblade, anche te hai avuto l'idea del Beyblade. Ma per la tecnica devi aspettare che... Che... Porca puttana, no. Non riesco a capire un cazzo quando fai i suoi attacchi. Porca troia. Non posso stargli lontano. Non posso stargli vicino. Riscendere! E nel salire! Culo. No. Eh, io chiamo palline. Io sono buono. Ma basta! Cazzo! Mi hanno riempito di botte, porco due! Se venite avanti ancora vi do un puio! No, il colpo di coda. Eh, a me prega il colpo di coda. Non riesco a un po' di coda. Perché sembra che non lo fa, ma lo fa. No, no, no. Schifo. Fai tutti. Oddio. Un altro play blade. Sono uno scudo, dentro uno scudo, dentro uno scudo. Significa. Significa. No, bene. Eh, che cazzo basta! Mi incastrano sempre! 16.000 è partito. Non riuscire a farne ancora bene. Siamo già arrivati a metterli in... No, uno secondo. E manco ne abbiamo tolto un pezzo. No! Porca miseria, l'ho visto tardi. Ma vaffanculo, era troppo vicino. Oh, buono. Però non è ancora la pinna. È là. Questa c'è? Ah, eccolo. Uh! All'ultimo secondo. Penna presa! È ancora dentro gli scudi. Colada. Oh, bene. La pinna colada. Sono riusciti a batterlo per la terza volta. Non ballarmi addosso, per favore, Yuki, che mi sai coprendo la visuale della mia bellezza. Dai, andiamo, vi offro da bere, andiamo. Allora, offro tutto io. Io prendo soltanto un bicchiere d'acqua. Tu, Black, che cosa prendi? Una bella Coca-Cola con uno spritzio mescolato insieme. Bene, posso permetterlo. E tu, Yuki, che cosa vuoi? Qualcosa che riesco a permettermi? Una gassosa. Una gassosa, va bene. A posto. Pronti? 3, 2, 1, via. Signori. Prendiamo. Alla salute. Porca troia, che cosa hai mangiato? No, Yuki. Brutto. Ma io ho messo. Ma cosa? Ma, ma non ti. No, io ho preso un boccale. Tu hai preso tutto il boccale. Noi avremmo tutta l'altra. Noi ho preso tutto. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok.